Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. Non c'è molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odi la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. Dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo la festa di Sant'Ignazio di Antiochia, vissuto nel primo secolo, già ai tempi del Signore Gesù. Ricordiamo e preghiamo questo grande santo perché è particolarmente legato a Gesù Eucaristico. E ancora prima e ancora più a Gesù Evangelico. Almeno per due motivi che meditiamo. Il primo, la tradizione dice che era proprio lui quel bambino che Gesù ha chiamato a sé. Quando gli Apostoli tra di loro discutevano e litigavano. Chi di loro fosse il più grande. Gesù l'ha posto in mezzo a loro, ponendogli le mani sulle spalle, a modo di benedizione e di consacrazione, e ha detto «Se non vi convertirete, non diventerete come questo bambino, non entrerete nel Regno dei Cieli». Era il piccolo Ignazio. Che se vivono Gesù non c'erano solo gli Apostoli, non c'erano solo i discepoli, non c'erano solo le donne, ma anche i bambini. I bambini erano affascinati e attirati dai modi paterni e materni di Gesù. Perché Gesù esprimeva proprio tanta paternità e tanta maternità. E questi bambini a quei tempi erano molto orfani. Erano orfani, tante volte in modo materiale, concreto, fisico, ma erano anche molto orfani spirituali. A parte che ce ne sono anche oggi di tanti bambini che hanno la famiglia, ma sovvivono come da orfani, di un padre e di una madre, o dell'uno o dell'altro. E quindi erano affascinati e attirati dalla attenzione e dalla preferenza che Gesù aveva per i bambini. Dalla sua stima, dalla sua ammirazione per chi era come loro. E certamente anche dall'affetto che Gesù dava a questi piccoli, come dice il Vangelo, ponendo le mani sopra di loro, li benedicevano. Ignazio era quel bambino, quel bambino chiamato da Gesù in mezzo agli Apostoli. Forse era il prediletto di Gesù, il più affezionato Gesù, il più amico di Gesù, il più credente in Gesù, diciamo il più vicino, tanto che Gesù l'ha chiamato. E subito era lì, in mezzo, subito ha risposto a questa chiamata, in mezzo agli Apostoli. Questo fatto e questo santo ci dicono che con che animo noi dobbiamo fare la comunione. Cioè dobbiamo fare la comunione con fede, con confidenza, con l'amicizia, con l'amore di un bambino, come Ignazio. Gesù nell'Eucaristia è un mistero di piccolezza, perché si fa piccolo e umile in un pezzettino di pane consacrato, ma è anche un mistero di grandezza divina, perché è il Dio massimo, Dio grandissimo, generosissimo, è colui che ci fa grandi per il Regno di Dio, con la grandezza e la statura religiosa e morale sulla stessa, di Gesù stesso, che viene in noi, che ci nutre e ci fa crescere grandi in Lui e come Lui, soprattutto grandi nelle virtù umane e cristiane, che sono l'imitazione delle virtù di Cristo. E le virtù entrano nel nostro cuore con la comunione, sempre il nostro cuore è quello di un bambino come Ignazio. La seconda tradizione dice ancora che Ignazio era diventato poi discepolo più giovane e prediletto dell'Apostolo ed Evangelista Giovanni, San Giovanni. Sappiamo che San Giovanni, fratello di Pietro, era l'Apostolo che Gesù amava. Il più giovane, il più fedele, il più forte e coraggioso, il più innamorato di Gesù, era anche Celipe. E quindi il suo cuore era tutto per Gesù. E' quel discepolo che durante l'ultima cena, essendo accanto al Signore, nel fargli una domanda, ha posato il capo sul cuore di Gesù. In quel momento della cena del Signore, si può dire che Giovanni ha posato il capo sul cuore eucaristico del Signore. Un cuore che si dava in cibo durante l'ultima cena, si dava in cibo agli Apostoli nell'Eucaristia, per entrare anche oggi nei nostri cuori e nutrire i nostri cuori con i Suoi sentimenti, i sentimenti del Suo cuore, che sappiamo essere principalmente l'amitezza e l'umiltà, imparate da me che sono amite e umile di cuore. Sant'Ignazio a questa scuola spirituale dell'Apostolo Evangelista Giovanni ha vissuto la celebrazione della Messa e la Santa Comunione con questa perfezione evangelica, con questa santità evangelica del cuore di Gesù. Il suo carattere era mansueto, era dolce, era buono, era paziente, il suo comportamento era modesto, era umile, gentile e servizievoli. Così deve diventare il nostro cuore ogni volta che noi facciamo la comunione, di volta in volta che facciamo la comunione partecipiamo alla Santa Messa. Non è che da un momento all'altro si cambia il carattere, si migliora il carattere, si converte il carattere. Bisogna migliorarlo, correggerlo e facerlo sempre più simile al cuore del Signore, proprio facendo la comunione, di comunione in comunione, di Messa in Messa. Il cuore eucaristico dei cristiani deve esprimere e comunicare mitezza e umiltà, come il cuore di San Giovanni e del suo discepolo prediletto Ignazio di Antiochia. Ma sappiamo che l'eucaristia non è solo comunione col cuore di Cristo, ma è anche partecipazione al sacrificio di Cristo, al suo martirio nella passione della croce, che rissi rinnovano durante la Santa Messa. Sant'Ignazio era quindi pronto anche al martirio, era pronto ad essere dato in pasto ai leoni del Colosseo durante i giochi delle festività pagane del 107 d.C. Interpreta il suo martirio in chiave eucaristica, dicendo e facendo scrivere, perché aveva le mani legate, di essere strumento di Dio macinato dai denti delle fiere, dei leoni, per diventare puro pane di Cristo. E' bella questa immagine, questo essere macinato dai denti dei leoni, delle fiere. Cioè vuol diventare lui eucaristia, nel sacrificio, nel martirio. Come i semi di frumento, dice Gesù, sono macinati per diventare farina che fa il pane, così un cristiano deve accettare la comunione, ricevere il pane del corpo di Cristo macinato, cioè offerto in sacrificio per noi. Già il frumento è frutto di un morire, ci ha detto nel Vangelo Gesù, è conseguenza della morte del chicco di grano. Quindi noi siamo cristiani eucaristici se sappiamo accettare di morire per la fede in Dio e per l'amore al prossimo, se sappiamo impostare tutta la vita come sacrificio, come servizio, come rinuncia a noi stessi e come donazione agli altri. Allora chiediamo a Sant'Ignazio di aiutarci, ad essere veramente anime eucaristiche, cioè a partecipare alla Messa, a ricevere la comunione, anzitutto con un cuore da bambini, miti e umili, perché così il nostro cuore è veramente grande agli occhi di Gesù e poi anche con un cuore pieno di amore al Signore, capace di sacrificio per il prossimo. Sant'Ignazio come vescovo era pieno di amore pastorale per le anime, come martire era pieno di generosità sacrificale. Sono pienezze eucaristiche che dobbiamo avere nel nostro cuore anche noi. Grazie. 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 Grazie.